Com'è andata l'ultima volta in cui hai detto grazie? Spesso lo diciamo in modo automatico e quasi ce ne dimentichiamo. E così ci sfugge l'opportunità di vivere nel profondo la gratitudine. La gratitudine è un valore i cui effetti e benefici sono patrimonio di qualunque cultura e filosofia. Molti studi hanno evidenziato che praticare la gratitudine migliora l'umore, l'autostima e la gioia. Non solo, viverla apre nuovi scenari futuri nelle relazioni con gli altri. Abbiamo creato la carta della gratitudine perché ti aiuta a riflettere sui tuoi grazie, donarle agli altri nel mondo e a vederne gli effetti. Dietro la carta c'è un codice univoco. Lo registri sul sito joydip.com, scrivi la storia del tuo passaggio, consegni la carta, spieghi il perché del tuo grazie. Ma la storia non finisce qui perché la persona a cui l'hai donata potrà scrivere la storia del passaggio tra di voi dal suo punto di vista e si genererà così un momento unico e profondo. Ora tocca a lei, la passerà a sua volta e la carta continuerà a girare di mano in mano. Collegherà tante storie di gratitudine. Sarà bello andare a visitare il sito joydip e scoprire l'impatto sociale ed emozionale che un'azione può raggiungere nel mondo. Qualche idea su come utilizzarle? Come biglietto di auguri speciali per parenti, amici e colleghi. Come percorso personale alla riscoperta della gratitudine. Come dono alla fine di workshop, conferenze ed eventi. E tanti altri modi che sarà bello scoprire grazie alle tue storie. Se anche tu in questo periodo dell'anno vuoi dire dei grazie di nuova intensità, pensa a tutte le persone al cui potrai donare le carte e scegli il pacchetto che fa per te. Grazie!